potente a fare ragazzi qua vax oggi oh my god oggi non sono da solo oggi è una serata bensì sono in compagnia non di una ma di due persone perché infatti iniziamo subito dal primo dal mio primo accompagnatore di oggi chi è? chi è? ma chi è? è Marco Sinci 58 oh mio dio eccolo ma bensì buonasera buongiorno 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 perché infatti come voi ben sapete nel video speciale che porteremo per i 50.000 iscritti saremo in tre io Marco Sinci 58 e chi dillo tu? una persona speciale ma dimmi il nome un toffodino speciale vogliamo dire il nome? Luca com'è? no carmi nome carmi nome che faremo compagnia qua perché noi siamo esatto perché siamo maghi 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 quindi sei carico? carichissimo uno due tre boom e ragazzi eccolo qua carmi nove quindi noi tre questo fine settimana all'incirca ci fronteggeremo per una sfida che è un qualcosa avrà un qualcosa di epico secondo voi chi vincerà lo devono scrivere adesso aperte le quotazioni ragazzi Marco quotato 10 1.02 forse comunque vabbè c'è non ci guardiamo oggi cosa stiamo presentando e direi di presentare un magnifico pack opening versione mondiali FIFA 2014 mamma mia attenzione e andrà addirittura 60 di pacchetti infatti divetteremo un po' i più importanti diciamo qui quindi io direi di parla no prima bisogna ricordare di passare a FIFA coin stash per comprare cosa? magici crediti per aprire pacchettini per i mondiali esattamente comunque adesso io direi un po' di partire esatto facciamo vedere il primo pacchetto chi lo apre? una volta a testa? vai una testa via una testa via una testa via una testata a testa via primo pacchetto come sempre sarà buonissimo Salto no no facile Salto no salto no History Buonissimo Eccolo Sterlna 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 Guarda Dai che Marco Sincer Dai che Marco Sincer Saltalo Via Vaffanculo Zullo Figa dai che No Non ci credo Non ci credo Vai a fare in culo No Ho trovato Cristiano Un ceppone Prendetele a ginocchiate Ci fa trovare giocatori che dobbiamo aspettare Non ci credo C'è stato un spettacolo Idiota No Te è il primo giocatore bello che ho trovato in tutta la mia vita Figa lo dovevo scartare Facciamo un secco Facciamo un secco Facciamo un secco Fare tipo così Fanno il più veloce possibile Veloce indolore Non ci credo Veloce indolore L'hai fatto No Proviti Soffro No Colpa al cuore L'hai fatto L'ha fatto L'ha fatto No No Porco Che sfiga Sto agli A di Giorgio La bestia e viola Di cambiare Non si può Non è concepibile che non è uno scopo IEPPE! 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 ULERE! THOMAS! THOMAS! THOMAS HULLER! BUONO! FIGA! Non c'è altro che sei così forte, oh! CARMI! Ce l'ho il fantamo! Anch'io l'ho trovato sempre! Che non fosse CARMI anch'io! L'ho visto dai tonopi che ci sono... CARMI non è una gamba! CARMI non è una gamba! TIAKO SILVA! Bravo! Bravo! Tiago Silva! Ci serve lui! Eccolo! Ma che giornata magica oggi! Disco! 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 Bello! Oh! Ah! Belli! Buon pacchetto! 2...3... YEAH! Allora adesso lo facciamo! 1...2...3... Ma che cazzo! Oh dai continuiamo qua Ehi là ci hanno creduto Eh si Che scherzoni Che burloni Dai oh Riuscito Grande 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 Bravo Carlo Goze Marito Grande Grande Begnate Begnate Perché sono io Che biglioni A tre abbiamo Tre Due Uno Ci hai creduto Addirittura qua tre Ormai abbiamo anche i doppioni consumabili Andata male I consumabili doppioni Allora Ragazzi abbiamo deciso di fare una cosa Andate a cagare Andiamo ad aprire tre pacchetti No Due pacchetti No Un pacchetto a testa di fila Quello che trova il giocatore meno scarso Si prende uno schiaffo da tutti e due Uno sulla quale sono dall'altro Quello più scarso Quello più scarso Questo è mio E io ci ho Di quelli non trovati Di quelli Che non si trovano ancora 70 Io ci credo Questo è buono Questo è buono Questo è buono 70 70 A cagare Cazzo qui dietro Dammi lo schiaffo Dammi lo schiaffo adesso Conserva Conserva Consumabili 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 Nooo Palazzo Al tre Io non guardo Aspetta Un pugno Un pugno schiaffo Un pugno schiaffo Dove? E sulla guaggia E uno dall'altro Uno dall'altro Un cazzo di prego così Un pugno Un pugno No Sei gemo E non ce la passa Al pugno Stai sulla scalla Davanti Giro Pugno sulla spalla Un schiaffo Pugno Vai Un schiaffo Contemporaneamente però Oh mai Three Aspetta Tre Due Mettela No Ma senti Tre Due Due Ah Non abbiamo fatto niente Sto sudando Aspetta Bastardi Dai Tira Oh Stiratelo in fretta Per favore No Tre Due Uno Uno No Basta Non fare Il braccio Non fare Non fare Non fare Non fare Non fare Sì Sì Mila Torniano Cristo Mila C'era Sì 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 Aio 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 Allora ora inizia a caro Se volete un video solo così Quindi dove noi tre ci sfidiamo E chi perde a questa penitenza Oppure penitenze diverse Lasciate un bel mi piace E questo video quanti vi deve raggiungere? Meno 5 mila 5 mila mi piace e iniziamo una serie simile A cui voi date il nome Bomba Si sente sfortunato Ancora tre Vado via Tra quelli Tra quelli è Da scartare 71 Che merda Giorno di Alba è tu Giorno di Alba è tu Sei Quanto spero che vi non trovi niente L'ultimo bacchetto Va Marco Cinci Se non troverà niente e troverà Un giocatore a scartare Devo spaventare con l'ultimo bacchetto No però qua salto C'è solo l'ultimo Anzi non saltare Fagliela pesare a caro Non saltare Vuoi chiudere anche la tv? 70 ore Non conta niente Se va Dai mi ha detto Mi ha detto E' carico E' carico Io vorrei dare un schiaffo Io sono un schiaffo Un coppino E' un coppino E' un postato 3 Aspetta aspetta Sì che la c'è per tonare 3 2 3 3 3 2 E' dove vai E' 2 1 Non vale 1 in più 1 in più 1 in più Sì Comunque ragazzi Detto questo Il pack opening è terminato E vi vogliamo dire una cosa O meglio Vogliamo resocontare una cosa detta Perché infatti Se questo video raggiungerà I 5.000 mi piace Inizieremo a fare una serie Che appunto poi andremo a pensare O meglio che ci aiuterete a pensare Nella quale Ci sfidiamo a qualcosa Io Marco C58 E caro mi 9 Quindi 5.000 mi piace E detto questo Dobbiamo aprire la finestra Perché io sto letteralmente sudando Che schifo E comunque detto questo Io vi saluto O meglio Axel vi saluta Marco C58 Vi saluta E caro mi 9 Eccovi qua Vi saluta Vi saluta E vi diciamo Potenta pace E nel nostro video Bolla